I problemi di Riolo sono più di uno. Il primo è la velocità delle macchine che passano davanti al ristorante perché alcune persone passano per superare i camion che vanno verso dove erano, fanno ancora all'interno del Riolo, passano sulla vecchia strada per poi rientrare, per rientrare sempre sulla tangenziale, quindi superando il camion. E questi passano davanti al paese diciamo 80, 90, 100 all'ora perché vanno velocissimi. Quindi avendo anche la presenza delle scuole il problema è abbastanza critico. Quasi tutti noi abbiamo subito questo pericolo. cerchi di andare sulla strada e questo passa a tutta velocità. Poi c'è il discorso che nei paesi piccoli, questo me lo domando da tanto tempo, nei paesi piccoli com'è che si può fare per salvaguardare la sicurezza degli abitanti, delle frazioni? Telecamere non lo so, penso che sia difficile, veramente è un problema che non riesco a darmi una risposta, nemmeno io, però sicuramente chi delinque si sposta verso le periferie, trovando sempre all'interno della città telecamere e va nei piccoli paesi dove trova terreno fertile.